Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Francesco che ha trovato il cercafrutta, il congegno che custodisce tutti i poteri della frutta e della verdura e che può trasformarlo in Capitan Cook Abitanti dell'isola Solterina, ora l'esercizio numero due Con la mano destra toccatevi il piede sinistro mentre fate il ponte e con la mano sinistra vi grattate la schiena Forza! Voglio vedervi lavorare di più! Più veloci! Avanti, veloci! Mi è avvenuto un crampo a cipicchia! Ma qui abbiamo tutti i crampi! Questi non sono i soliti esercizi! Perché oggi fa così il grande allenatore? È molto strano È strano perché io non sono il grande allenatore Ma io sì! E tu non puoi trattarmi in questo modo e imbrogliare così il mio popolo! E io sono Golosix, il golosone più famoso di Elthe e ruberò tutto il cibo che avete Mentre voi siete bloccati dai crampi! Divertente il mio piano, eh? Sai, quando un piano è così scientifico non può fallire! Certo, come no! Ora ci penso io! Devo chiamare Cook immediatamente! Evviva! Per favore, possiamo fare subito un'altra partita? Ti prego, soltanto una e poi basta! A presto! Cook, viene subito! Ricevuto! Ora arrivo! Questo è un lavoro per Capitan Cook! Non dimentichi qualcuno! È pronta la merenda? Oggi ci sono delle magnifiche pere! Le pere! Io non le mangio! E poi voglio venire con te! All'avverduraggio! Ma dove sono i ragazzi? Eppure mi sembrava di averli sentiti qua fuori! Dai, cagnolino! Ti do subito la rivincita, ok? Batti tu! Isola salterina a tribordo! Prepararsi all'attracco! Allora hai capito sì o no che cos'è successo? Sì, Mabu, Golozix, ruberà tutto il loro cibo. Dobbiamo intervenire. Ah, e come facciamo? Questi crampi ci hanno immobilizzato! Devo trovare quali sono gli alimenti che possono aiutarvi a sciogliere i muscoli. Ah, ecco! Servono alimenti che contengano potassio. E sono ricchi di questo elemento le pere, le noci e le banane. Sono dolcissima! Sono strepitose! Sarà buonissima! I crampi sono scomparti! E ora andiamo a liberare il grande allenatore. E adesso andiamo a recuperare le casse con il nostro cibo. È importante agire di sorpresa. Guarda un po' che c'è là! Guarda un po' che c'è là! Ma ti sembra il momento di giocare a tennis? Le ceste! Possiamo nasconderci nelle ceste! Sai, ho avuto un'idea! Perché non ci nascondiamo nelle ceste? Giusto! Ottima idea! Ora ti dirò qual è il mio piano. Avevo ragione! Un brindisi! È un piano troppo scientifico per fallire! Un brindisi! Può darsi chissà! Avanti! Prepararsi a salpare! Scusi? Chi è che... Salve, ci conosciamo? No, no. Mai visto prima. E questo è il terrore dei nove mari? Beh, allora avete dimenticato queste ultime ceste. Sì, giusto! Stavamo per lasciarle qui! All'avverduraggio! Ecco, lo sapevo. È sempre la tua golosizia, che alla fine ci mette nei guai. Golosità! Si dice, golosità! Evviva! Evviva! Sì! Scientifico! Un piano scientifico! Zitto e muoviti! Questi sono i semi di pera, di noci e di banana. Così potrete coltivarli da soli. Ma ricordatevi che se non volete avere i crampi, dovrete mangiarli spesso. Siete qui, allora! Non credo ai miei occhi, mangiate le pere. Ma certo, servono a combattere i crampi. E anche golosix! Ehi, ragazzi! Sì, dico proprio a voi! Avvicinatevi! Allora, avete capito? Frutta e verdura sono importanti! E per crescere sani e forti bisogna mangiare un po' di tutto! Surma, questa è la parola d'ordine! Tutto ma non troppo devi mangiare e tanta attività fisica devi fare! Parola di Capitan Cook! Capitan Cook c'è bisogno di tecema buu-buu perché una volta errare sul pianeta di Elk dove frutta non c'è con la tua vitamina e la playpen premi la X ma sta tanto che c'è con lo Zix con i suoi micicorsari il terrore dei mari ma con un po' di verdura vedrai che paura rifai Grazie a tutti.